Lei ha seguito, io lo seguo perché è una passione straordinaria, perché è uno showman, oltre che secondo me è una persona seria, il presidente dell'Argentina, Milei, lo incontrerà a Roma quando arriva a febbraio. Lei dovrebbe essere a Roma ai primi di febbraio, certo, ho sentito, sono stato il primo leader che l'ha sentito in Europa. Ah, l'ha chiamato subito? Sì, sì, sì. Le fa simpatia, ha capito qualche cosa? Beh, sicuramente una personalità affascinante. Lei non l'ha detto a fuera. No, a me non me l'ha detto a fuera. Perché? Ma perché?